Bene ragazzi, siamo i Grananas e siamo tornati con un nuovo episodio del Tapirulan che mancava da tanto tempo, da prima di Milano addirittura Sì, è vero, ma io sono stato male quindi potevo farlo e... E quindi cazzi vari Esatto E no Marzenal, come al solito, chi segna, poi l'altro prenderà il posto e... con velocità maggiore Esattamente Ho spiegata malissimo però vabbè Se uno già sta sul Tapirulan... Oggio, i turbe, sovvigli i turbe! Ah, che cazzi tu! Se uno già sta sul Tapirulan, aumenta la velocità, ci rimane Vabbè, ah, Gab Si parte sciaglia all'inizio Oddio Ciro, oddio Ciro, oddio Ciro, oddio Ciro, oddio Ciro, oddio Ciro, oddio Ciro Ma che cazzo ti tre hai fatto? Ciro, vai non ci sto Mamma mia Manda Raja, manda su il Vigno, oddio l'è entrato, l'è entrato Non è entrato Mamma mia, mamma mia Bella la palla per Ciro, 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 Ciro Ciro Oh 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 Un reggiano Arzenal Gabbèlin! Tampai Da quanto vai? Ed di due? Ma che sei tu, e degravata 40, che zonana? Un e mezzo in più Per il darryl Il darryl Oh, vattene le cerchi, vattene le cerchi � powin wa ste cazzate Pubblico sono andato? Nooo! se non è che cazzo se che portiere che portiere incredibile mamma mia amici che portierone dai in segreto sanchez ma no las fa un culo cazzo fate cazzo fate cazzo mate oh ma che sta da fa vai di luci vai di luci è entrato ma non è possibile incredibile eccezionale mucchio selvaggio eccolo che cazzo fate oh ma come state ma perchè stanno a fare incredibile francesco il cross in mezzo e non va non ci credo non ci credo non ci voglio credere anzi non ho sbagliato non ci voglio credere di tutto sta succedendo incredibile guarda guarda che schifo cinque di riporto e poi te ne fatti due che vuol dire dai germinio famo cazzate famo cazzate come adesso mannaggia la palla per costas 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 no non ci posso credere non ci posso credere oh la palla bella per di ooooooo guarda che cazzo ha fatto il macello ha fatto no ah 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 borco due o che pattino del caso ah no no ma è fuori gioco ma va a fa culo ma come 75esimo larsen conduce per 1 a 0 ma la roma sta attaccando e ora totti prova a inventare qualcosa per gerviniooo e che brazo il mio e il mio e il mio e il mio e il mio se chiede mi aveva credibili a un panno diciamo ma è capitato da una del genere sanchez buono di farlo sanchez non è vero che faccia però parte lui ho un posto cascato stai con i miei oh 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 e fallo dai 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 andiamo a bici oh vabbè ti puoi fischia fischia guardalo bello 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 mi è piaciuto tutta mezzo guarda che culo che c'ha guarda che sento a te vai nel lago a 2 a 1 questo è quello che ti vedi a la luna mamma mia che rimonta francesco ancora sanchez ci trova sanchez u u bello e porco demonio trafadu grande corey walcott corey walcott ma che cazzo fai bella bella sanchez 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 te prego non fa cazzate sanchez giro no che non ci arrivi mi facci tua dai ragazzi teniamo mamma mia che entrata mamma mia vince la roma che partita continua fino all'altro vai vai che te fa bene vabbè ragazzi è tutto mo casco e niente sconfitta è immeritata però sti cazzo immeritata immeritata si immeritata dopo questa dopo questa dopo questa l'ho sentita tutte e quindi io vi direi un attimo a fuoco io vi direi anche bella dopo questa l'ho sentita tutte comunque lasciate un mi piace se vi è piaciuto eeeh duemila arriviamo a duemila e perchè sto così vedono solo la bocca che si muove mi pare uno dei qui russi arriviamo a duemila mi like arriviamo a duemila like se il video vi è piaciuto e niente ci vediamo al prossimo bella